era un po' che volevo fare questo video poi lo sapete non sono stato bene sono partito anche per Praga era ancora mezzo cagionato e già da un po' di tempo che volevo fare questo video a sto punto abbiamo aspettato anche la fine dell'ultima partita per appunto metterci un attimo bocca perché penso che sia stato uno degli addi più fatti cioè in sordina di sempre è vero che è stato un giocatore che a livello di importanza diciamo in campo per risultati per tutto non ha mai rappresentato niente per la Fiorentina poco o nulla comunque a parte qualche prestazione un po' così però ragazzi allora io volevo appunto dedicargli due parole così perché sul secondo canale perché comunque è sempre una cosa che voglio esulare dal primo canale magari lo farò anche con altri giocatori ma con l'Ollino Venuti è una cosa che personalmente un pochino mi tocca perché io ragazzi se devo pensare a questo giocatore qua che da fine giugno adesso non sarà più un giocatore della Fiorentina mi si stringe un po' il cuore in senso buono nel senso perché comunque si parla di un giocatore che per chi non lo sa ovviamente poi per chi lo sa non è niente di nuovo e le sto dicendo è un giocatore che è alla Fiorentina se vogliamo proprio di proprietà nel senso della Fiorentina da 19 anni da 19 anni ragazzi Lorenzo Venuti è un classe 95 è partito giovanissimo se non sbaglio tipo nelle giovanissime di Incisa nei pulcini di Incisa e poi dal 2004 se non sbaglio nelle giovanili della Fiorentina dal 2004 dal 2004 dal 2004 ragazzi poi vari prestiti mi ricordo nel 2014 a Pescara poi se non sbaglio Brescia poi dal 2016 forse se non sbaglio a Benevento dove tra l'altro per chi si ricorda il famoso gol di Vitor Ugo che salta dopo la morte di Astorino che salta facendo quel balzo alto 3 metri salta letteralmente sopra la testa di Venuti che ancora stava a giocare al Benevento e poi oddio non mi ricordo l'ultima squadra che ha calcato però un'altra prima della Fiorentina adesso appunto mi sfugge sempre 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 giallorossa ragazzi io volevo appunto spendere due parole perché non è io quando penso a questo giocatore mi è difficile anzi impossibile considerarlo una bandiera Lorenzo Venuti se te pensi a Venuti non lo puoi considerare una bandiera non è una bandiera della Fiorentina non può essere Antognone è una bandiera della Fiorentina Borcavalere è una bandiera della Fiorentina ma chiunque altro Pasqual è una bandiera della Fiorentina sono stati ovviamente insomma si sta parlando di questa roba qui Lorenzo Venuti non è una bandiera della Fiorentina Lorenzo Venuti a livello di importanza non può essere neanche comparato ma a livello diciamo affettivo è qualcosa di più è qualcosa molto di più che si avvicina molto di più a noi tifosi piuttosto che a dei calciatori appunto quindi gente che per noi sono quasi inarrivabili alieni ma che sono molto più vicini di quanto noi pensiamo e Lorenzo è un giocatore che è molto più tifoso rispetto a un calciatore che è un giocatore di calcio Venuti è letteralmente il ragazzo che ce l'ha fatta ragazzi come lo è stato Viviano per fare un altro esempio ma lui ovviamente ha livelli più alti di Venuti il tifoso della Fiorentina da sempre che ce l'ha fatta che è riuscito a prendersi a caricarsi sulle spalle le responsabilità date dall'affetto dall'amore per la squadra e di portare sulle spalle il peso della maglia della squadra per cui tifa da sempre da cui è innamorato da sempre io infatti a Venuti non li ho mai mai neanche dopo varie prestazioni che sappiamo tutti opache brutte o comunque non all'altezza della squadra non l'ho mai criticato mai mai perché lo puoi criticare a livello di rendimento in campo perché non adatto magari a livello della Fiorentina degli ultimi due anni insomma però non lo potrai mai criticare a livello umano perché Venuti ragazzi ha sempre dato sempre sempre il 2000% in campo come avremmo fatto tutti noi anche io che sono scarso scarso di obono come la merda che non so ottenere un pallone tra piedi correrei come un animale come un animale in campo fino a sputare sangue tutte le partite tutte le domeniche come ha sempre fatto anche lui mi ricordo comunque delle prestazioni anche buone di Venuti perché mi ricordo il gol al al 105esimo se non sbaglio contro il Napoli per andare avanti in Coppa Italia dopo che il Napoli aveva pareggiato un Petagna nel 95esimo è lui che segna il 3-2 mi ricordo la bellissima prestazione contro il Milan l'anno scorso dove si vince 4-3 a Firenze dove è venuto addirittura costretto per forza di cose di formazione a giocare difensore centrale e io mi ricordo che lì aveva da ammarcare Ibrahimovic e fece una partita calamorosa però sfortunatamente quando uno pensa a venuti a Firenze gli vengano in mente dei brutti ricordi cioè nel senso brutti ricordi a livello ovviamente a livello di campo di risultati l'autogol al 91esimo contro la Juve in Coppa Italia ce lo ricordiamo l'anno scorso sempre l'autogol contro l'Inter anzi l'autogol diciamo lui che gliela rimpalla addosso a Mkhitaryan nel 4-3 contro l'Inter di quest'anno l'autogol sfortunato contro il Milan sempre nel 4-3 che poi comunque lì ce la siamo portati a casa quindi to vaffanculo e poi vabbè quest'anno la palla rimessa in mezzo con il Lec se ne potrebbe dire tante perché comunque è sempre stato un giocatore non all'altezza di grandi livelli è sempre stato un giocatore un buonissimo giocatore da squadra neopromossa un buonissimo terzino da squadra neopromossa un eccellente terzino da serie B da parte alta della serie B ma non tanto di più sfortunatamente però ragazzi è sempre stato il ragazzo che ce l'ha fatta cioè io lo ho sempre ammirato per questo perché vederlo in campo vederlo in campo giocare è stato quasi un rivedersi io perlomeno mi sono rivisto io nel senso vedere il senso di responsabilità negli occhi di questo ragazzo quando sbagliava le lacrime agli occhi me le ricorda ancora nell'autogol contro la Juve me lo ricordo me lo ricordo al novantunesimo nessuno era più dispiaciuto di venuti quel giorno lì nessuno nessuno e sfortunatamente io avrei voluto romanticamente un gol importante da parte sua ma proprio perché io sono innamorato e quindi voglio mi sarebbe piaciuto magari che ne so un gol al novantesimo contro la Juve così per dire per regalarci tre punti in campionato e spezzare la maledizione ah siamo venuti tutti siamo venuti tutti che ci hanno preso per il culo per un anno e mezzo per questa per questa troiata che per sfortuna poi per sfortuna perché è sempre stato anche un ragazzo non all'altezza di grandi palcoscenici ma anche sfortunato sul campo anche sfortunato lo dobbiamo comunque dire io in generale ragazzi Lolino Venuti è e sarà sempre un giocatore che ricorderò con piacere in generale sempre non riesco non riesco a volergli male non ce la faccio anche se sul campo ci ha dato più malus che bonus ma è un giocatore che ha sempre dato il massimo per la maglia per le possibilità ovviamente che aveva delle volte ha anche dato di più e si è visto ha dato molto di più in campo delle sue possibilità diciamo fisiche comunque ed è giusto comunque visto che la Fiorentina è riuscita negli ultimi anni a progredire in maniera positiva e a cercare ovviamente anno dopo anno dalla nuova gestione dalla nuova presidenza di salire il livello della squadra è giusto che un giocatore come Venuti che era un giocatore diciamo che attaccato più non a livello ovviamente sportivo ma come posizionamento in classifica della vecchia gestione piuttosto che della nuova perché era un giocatore appunto da salvezza da parte media-bassa della classifica ma non tanto di più quindi è stato giusto che Venuti che Dodò gli sia subentrato appunto in questo ultimo anno e che lui si faccia giustamente da parte per far posto a un giocatore più pronto di lui quindi niente ragazzi io volevo dedicare questo piccolo spazio all'olino Venuti che da giugno non sarà più un giocatore della Fiorentina dovrà trovarsi diciamo un'altra sistemazione in un altro palcoscenio magari o anche in serie A serie B o anche all'estero non si sa mai e quindi niente mi andava comunque di dedicargli questi dieci minuti così perché secondo me non gli si è data troppa importanza visto che è stato un giocatore che il suo addio non ha toccato molti proprio perché si guarda molto il livello sportivo il livello umano si guarda poco sfortunatamente perché a Firenze comunque ce ne siamo quasi dimenticati le bandiere non esistono più non esiste più il giocatore innamorato della maglia quando se ne vede uno oddio che cavolo succede oddio che sta impazzito però ci bisogna anche ricordarsi che c'è qualche d'uno che arriva veramente da tanto lontano e che la maglia la ama praticamente quanto è noi quindi niente ragazzi sempre Forza Viola e ci vediamo al prossimo video ciao